È stata durissima, veramente durissima. Io sono, credo, la prova vivente della persona sana che è stata veramente sul punto di morire. Lorenzo Stocchi è un giovane montevarchino di 35 anni, lavora in comune a Terra Nuova nella segreteria del sindaco. In ottima forma fisica, senza patologie pregresse, oggi racconta di quanto terribile possa essere il coronavirus e di come possa colpire chiunque. Tutto era partito lo scorso 19 ottobre, quando Lorenzo era dovuto andare al pronto soccorso oculistico dell'ospedale San Donato di Arezzo per una lesione alla cornea. Nonostante la mascherina, probabilmente quest'occhio che lacrimava, io l'ho toccato, l'ho toccato spesso e quindi il virus è riuscito a passare. Dopo cinque giorni sono arrivati i primi sintomi, un leggero mal di testa e poi la febbre a 37,3. Da qui l'isolamento ed un test assierologico risultato negativo, ma la temperatura nei giorni successivi continuava a salire sino ad arrivare a 40. Così il passo successivo era stato il tampone al drive-thru. Mercoledì avevo un forte affanno. Sono arrivati il giovedì che la situazione era precipitata. Io non riuscivo a parlare e a malapena arrivavo dalla camera al bagno. Quindi mi hanno portato subito ad Arezzo e niente, poi dal pronto soccorso mi hanno portato in malattie infettive, dove sono rimasto pochissimo perché la condizione era già molto grave. Mi hanno messo il casco e mi hanno portato in terapia intensiva. E lì è cominciato l'incubo. Lo chiamo l'incubo perché è stata una condizione che sia a livello fisico che psicologico mi ha devastato. Non potevo parlare perché non avevo la forza di parlare. Non potevo sentire perché avevo il casco con l'ossigeno sparato nelle orecchie e un rumore assordante. I medici vedevo che mi venivano incontro, ma anche loro con la mascherina non potevo leggere il labiale. Quindi ero praticamente isolato. E sentirsi soli in quei momenti porta a una disperazione enorme. Poi è successo che il paziente che era vicino a me, purtroppo, è morto. E quando l'hanno portato via, a livello psicologico, sono crollato. Veramente. Ho avuto delle crisi di pianto interribili. Poi, non migliorando, il medico ha chiamato i miei genitori e gli ha detto che l'indomani mi avrebbero intubato perché non c'erano miglioramenti. Un medico, quella sera, ha provato a mettermi in posizione prona e è stata la mia salvezza. Perché per qualche motivo, la mattina dopo, l'emogastro è migliorato. E da lì è cominciata la ripresa. Ho continuato a tenere il casco. In tutto l'ho tenuto 11 giorni. E vivere in una bolla 11 giorni è pazzesco. Adesso Lorenzo sta meglio, ma ancora porta dietro i segni della malattia. In pochi giorni, infatti, ha perso ben 12 chili. Da ieri è tornato a casa, ma non senza problemi. Purtroppo, in reparto, i letti erano finiti. E quindi c'era da far spazio ai pazienti più gravi. Chiaramente sono raccomandati che a casa devo considerare di essere ancora in ospedale. Quindi rimanere sempre a letto, alzarmi solo per andare in bagno. Lorenzo ha anche raccontato la sua terribile esperienza sui social network con l'obiettivo di sensibilizzare coloro che ancora non si rendono conto della gravità di questa emergenza sanitaria. Da quello che è il mio post, ho via via cancellato tutti i commenti dei negazionisti perché non li voglio proprio vedere. Non posso augurare del male a nessuno, non lo farei mai. Però veramente, si renderanno conto che questa malattia esiste quando si troveranno nella condizione di essere in pena per qualcuno che sta male. Che esiste? Non ci si può fare niente. Io vedo tanta gente che in giro va con la mascherina sotto al naso perché magari non riesco a respirare con la mascherina. Voi non vi rendete conto di cosa significhi non respirare. Non ve ne rendete conto.